Sono qua in istanza online e voglio andare a inserire gli allegati. Vado a Cido Servizio, ok, mi ho già loggato, ok, con il mio nome, vado in altri servizi, vediamo se arriva, clicco, ok, adesso si è aperto, vado giù, è un po' un giro dell'oca, vado qui, gestione allegati, vai al servizio, scrivo avanti, accedi, qua mi dice sei tu? Sì, sono io, faccio avanti, questo qua io ho già allegato un'autocertificazione, adesso devo allegare la seconda, a questo punto vado su inserisci, ok, scusate, su scegli file, vado su scegli file, mi si apre l'allegato F, faccio apri, lui me l'ha caricato, qui devo per forza mettere che cos'è, tipologia di allegato, io ho messo l'autocertificazione col mio nome, ok, e vado a mettere inserisci, a questo punto siccome qua autocertificazione, Simone Orio, autocertificazione, metterò per distinguere la F, ok, Simone Orio così si distingue, inserisci, devo mettere il mio codice personale, ok, a questo punto vediamo se è quello lì rimasto, vediamo, conferma, che avevo già usato prima per non andarlo a prendere di nuovo, ok, qui mettono aggiornare la password, no, non mi interessa, vado a vedere, perfetto, me la dovrebbe averlo messo, vediamo, sì, qua, autocertificazione F, Simone Orio, e dunque ecco, come si va a inserire i vari allegati che poi possono venire usate in altri posti, difatti come vedete qui, questo qua è stato usato e puoi chiedere dove l'hai usato, questa autocertificazione, mentre queste, siccome l'ho messo adesso, non sono state neanche ancora usate, posso andarle a cancellare, mentre questa non si può più andare a cancellare perché è già stata usata, si può andare a visualizzare, visualizzare, se io clicco qua significa che salvo il file che ho appena caricato, ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.